511 atleti provenienti da 21 istituzioni educative, 8 discipline, oltre 400 gare, 74 accompagnatori, 14 trofei assegnati nelle competizioni a squadre, 78 medaglie sono i numeri delle convittiadi che si sono tenute a Campobasso dal 3 al 10 aprile, resi noti questa mattina in conferenza stampa. Un grande gioco di squadra che ha permesso la perfetta riuscita dell'evento, a cui sono pervenuti anche i complimenti degli altri convitti nazionali, nonché dei genitori dei ragazzi coinvolti nelle competizioni. Oggi abbiamo voluto proprio presentare i dati perché è stata talmente bella quella settimana, talmente entusiasmante che ci sembrava giusto anche dargli un senso e forma proprio con i numeri, con il numero degli atleti, delle strutture, di tutti quei partecipanti, anche dei volontari. Un evento che ha avuto anche un'ottima copertura mediatica, diffuso anche sui social, con dirette Facebook e Instagram dedicate e sul sito web che ha registrato una media di circa 2907 visite nella settimana di svolgimento delle convittiadi. Il rettore del Mario Pagano ha sottolineato anche le ricadute positive per il turismo, sia per la città di Campobasso, sia per i comuni limitrofi. Abbiamo visto girare tutti questi ragazzi la sera, andare in giro, hanno visitato il Museo dei Misteri, sono stati nel centro storico, quindi visitare la nostra città è stato molto bello. Poi per la chiusura sono arrivati anche tutti i familiari, per la premiazione sono arrivati la sera prima, hanno avuto difficoltà a trovare posto per dormire, sono dovute andare nei paesi vicini, intorno a Campobasso, hanno visitato diversi luoghi e questo ci fa molto molto piacere. 8 le strutture sportive impegnate tutto il giorno per una settimana, grande lo sforzo che ha assicurato lo svolgimento delle competizioni in sicurezza con la sanificazione di tutte le strutture ogni sera e l'igienizzazione degli ambienti tra il turno mattutino e quello pomeridiano. Grande soddisfazione anche da parte del presidente del CONI Molise che si è complimentato con tutti gli atleti. Una grande manifestazione in presenza, qual è il momento che ricorda con maggiore piacere? Sicuramente aver visto 700 ragazzi che stavano giù alla piana dei mulini durante la corsa campestre è stata un'immagine bellissima, soprattutto venendo da questi due anni di pandemia, di fermo totale, vederli finalmente correre e giocare in piena libertà sicuramente è stata l'immagine più bella. Dunque una macchina organizzativa perfetta anche dal punto di vista sanitario quando si era ancora in un contesto pandemico importante. Abbiamo avuto un totale di 12 casi con un tasso di positività del 2%, un grosso cluster in un convitto, altri casi sporadici, casi singoli, ma una volta identificati questi casi si è avviata la macchina del contact tracing e tutti i positivi sono stati trasferiti nelle regioni d'origine attraverso un trasporto protetto, privato o sanitario a seconda della distanza. Un plauso dunque allo sforzo compiuto che ha permesso la perfetta riuscita dell'evento, finito anche sulla rivista internazionale d'arte, cultura e sport Spiridon.